per quanto concerne le banche centrali in netta difficoltà perché arrivano nuove pressioni inflazionistiche legate completamente alla guerra in Ucraina. Ora focus sui mercati insieme a Paolo Nardovino, Main Trend Analysis. Buon pomeriggio Paolo, ben ritrovato. Buon pomeriggio Alexandra, un caro saluto degli spettatori delle fonti. Ecco Paolo, partiamo con un commento generico di tutto ciò che accade sui mercati. Oggi Europa sotto tono, ma forse anche un po' a causa delle scadenze tecniche. Wall Street anche rimane sulla parità nonostante i rally di ieri, ecco dopo le parole di Jerome Powell. Insomma, che cosa sposta il mercato? Allora, oggi abbiamo avuto l'apertura del mercato europeo in forza a seguito della forte seduta di rialzo che abbiamo avuto ieri sul mercato americano, soprattutto sull'indice tecnologico. Poi alle 11 è uscito il dato sull'inflazione che è stato poi anche preceduto da una dichiarazione della Lagarde che questo dato ha fatto girare la seduta e abbiamo avuto, dopo i massimi fatti sull'indice DAX sopra i 14.500 punti, abbiamo avuto un'inversione intraday della seduta con adesso una spienta ribassista abbastanza pronunciata sull'Europa. In America invece abbiamo sostanzialmente un consolidamento dei valori testati ieri, abbiamo visto anche oggi un re-test dell'area dei 14.000 del Nasdaq e l'indice Standard & Poor's che si è per adesso fermato al di sotto delle prime resistenze. C'è da dire che in questa settimana, come io mi attendevo da qualche settimana, abbiamo avuto, direi anche finalmente, il minimo profondo sul Nasdaq perché ha rinnovato, il Nasdaq è l'unico tra i tre indici americani ad aver rinnovato il minimo di febbraio. Questo evento raccorda il ciclo che sto seguendo io e fornisce una prima indicazione di un possibile bottom trimestrale sul Nasdaq. Sugli altri due indici, sul Dow Jones e sullo Standard & Poor's non abbiamo ancora avuto la violazione del minimo di febbraio e siamo in una fase di congestione. Su questi due indici il ciclo è diverso rispetto al Nasdaq, va detto. Il Nasdaq è il massimo, lo ha anticipato a novembre del 2022, mentre il Dow Jones e lo Standard & Poor's hanno fatto i massimi assoluti nel mese di gennaio di quest'anno. Quindi è possibile uno sfasamento tra i vari indici, anche dovuto alla rotazione settoriale e questo potrebbe spostare il minimo sugli indici Dow Jones e Standard & Poor's anche nel mese di aprile. Alla luce di questo l'operatività sul mercato americano, a mio avviso, deve essere ancora improntata alla rudenza, perché potremmo avere tra la fine di marzo e la prima decada di aprile ancora dei movimenti violenti sul comparto del Dow Jones. Intanto invito i nostri telespedatori a scriverci le loro richieste, noi risponderemo a tutte le vostre domande, però prima innanzitutto vorrei fare il punto sulla situazione per quanto concerne il comparto bancario a piazza affari, perché ovviamente i livelli sono un pochettino forse anche troppo bassi in termini di banche. Unicredit cede il 5%, Banco BPM cede il 5,40%, 2%, Mediobanca, Intesa, un po' tutte le banche principali stanno soffrendo, questo è un warning, c'è un messaggio importante di star lontano al comparto bancario, invece è un'opportunità d'acquisto. C'è stato oggi un reverse improvviso dopo il dato sull'inflazione, è un warning in generale sul mercato europeo, il settore bancario in questa fase è penalizzato, però è stato quello che ha maggiormente trainato gli indici nella prima parte dell'anno, cioè è stato il miglior settore nella prima parte dell'anno. Adesso io penso che sia più un profit taking generalizzato, ci sono alcune banche sulle quali il ribasso potrebbe rappresentare un'occasione di acquisto, penso a Fineco ad esempio, è una delle banche che io sto monitorando, se dovesse affondare su livelli più bassi potrebbe rappresentare un'occasione di acquisto. in generale gli indici europei hanno visto il 7 marzo un minimo importante, quindi nuovi affondi al di sotto di quel minimo a breve io tenderei ad escluderli, però non dimentichiamo che siamo in una fase di alta volatilità e la situazione geopolitica è ancora in itinere, quindi possiamo avere dei rovesci improvvisi del mercato come possiamo avere, lo stiamo vedendo anche in queste ore, improvvisi nuovi rialzi forti delle materie prime a partire dal petrolio che si è riportato al di sopra 302 dollari. La situazione è ancora molto fluida e la leva va ridotta assolutamente e l'operatività deve essere comunque improntata alla ruvedenza. Andiamo a vedere rapidamente anche le situazioni in termini di mercato obbligazionario, attualmente vedo il decenale USA 2,13% in termini di rendimento, lo spread tra il BTP e il Bund 152 punti base con un decenale italiano che rende l'1,89%, oggi stiamo vedendo dei ribassi in termini di rendimenti sia in Europa che negli Stati Uniti, anche il decenale il Bund tedesco rende lo 0,37% però in calo del 3,37%. Una domanda un po' più generica, i rendimenti più alti del mercato obbligazionario potrebbero in qualche modo cambiare il quadro generale anche per l'equity? Sì, lo cambieranno sicuramente, anche se il mercato ieri ha avuto una reazione molto forte alle dichiarazioni del Presidente della Banca Centrale, perché finalmente il mercato ha avuto un piano chiaro di futuri rialzi e penso ha apprezzato anche la velocità di reazione che ha avuto la Banca Centrale. Però non dimentichiamo che l'inflazione attualmente a livelli talmente alti che molto probabilmente i livelli che ha dato il banchiere centrale sono livelli al di sotto di quelli effettivi. Io penso che vedremo dei tassi in futuro, nel 2023, anche intorno al 3% e anche più alti del 3% per riequilibrare l'inflazione. Attualmente siamo al 2,14%, è in fase di correzione, però ieri ha avuto un picco molto alto, è arrivato quasi a 2,25% il decennale americano. Sono livelli obiettivamente alti e che penalizzano, se mantenuti, penalizzano l'equity, perché ci sarà sicuramente un travaso tra gli investimenti nell'equity verso l'obbligazionario, se i tassi continuano a salire con questa velocità. La vera indicazione va vista sulla differenza dei tassi, non soltanto sul valore assoluto del decennale, ma dobbiamo vedere tutta la curva dei tassi e stiamo vedendo anche delle fasi di appiattimento della curva, se non proprio di inversione. Questo comporta comunque una preoccupazione per la seconda parte dell'anno. Poi facendo seguito a quello che ha detto il Presidente Powell, da maggio inizierà il dimagrimento del bilancio della Federal Reserve, quindi inizieranno le vendite nette degli asset e questo a mio avviso sarà anche uno dei fattori che penalizzerà il mercato dell'equity. Quindi siamo in una fase in cui il mercato sta rimbalzando, il mercato dell'equity sta rimbalzando, stiamo avendo delle reazioni importanti su alcuni settori e alcuni titoli, però in prospettiva questo rialzo a mio avviso non ha molto spazio, difficilmente vedremo i valori che abbiamo visto all'inizio dell'anno sul mercato azionale. Ok, questo era un punto importante perché c'era una discussione molto accesa tra gli analisti sotto questo aspetto e cioè se vedremo i livelli da inizio anno, anche ultimo trimestre 2021 ben presto. Dunque Paolo Nardovino ci dice no, ti leggo la domanda di Federico, un parere su Snam e poi vado da Vincenzo che ci scrive proprio in questo momento, ma prima vediamo insieme Snam. Sì, allora, un attimo che carico, il Snam Ritegasse. Esatto. Ok, ecco. Sì. Intanto vedo Snam che c'è dello 0,20% in questo istante, oggi abbiamo visto anche le trimestrali 4,88 euro per azione, però attenzione perché su base mensile comunque rimane al rialzo dell'1,62%, su base settimanale ancora sotto la parità ha ceduto lo 0,75%, poi per carità bisogna vedere come andrà a terminare questa seduta. Allora, il titolo è uno dei titoli difensivi, è nel settore che è nell'occhio del ciclone, il settore delle reti della distribuzione del gas, quindi potrebbe essere anche un'occasione di investimento, però la storia di Snam ci dice che non presenta dei movimenti molto ampi, è un titolo difensivo sul quale parcheggiarsi nelle fasi di alta volatilità del mercato. Da un punto di vista tecnico, guardando lo stretto periodo del 2022, abbiamo avuto un minimo importante il 7 marzo, che è stato poi il minimo che abbiamo visto anche sugli indici, a 4,75 e quello rappresenta il livello di riferimento da non violare. Da questi livelli si può anche provare l'acquisto con l'accortezza di inserire uno stop proprio al di sotto di quel minimo. È un titolo, ripeto, è un titolo difensivo che può anche sola performare, anzi probabilmente sola performerà il paniere italiano nel corso del 2022, però non mi aspetterei da questo titolo di grandi performance. Ok, vado a leggerti un'altra domanda, secondo me molto interessante, di Vincenzo. Buon pomeriggio, vorrei una view del vostro ospite sul tech americano alla luce di questo rialzo soft dei tassi. In questi giorni ho acquistato, spero a sconto, Coinbase, Meta, AMD, Ford, Cisco e Tesla. Ritiene che tra questi ho fatto qualche azzardo di troppo, poi ovviamente Paolo non possiamo soffermarci a tutti, ma in generale? No, allora il settore, io ho detto il Nasdaq, io mi aspettavo un minimo a marzo per il Nasdaq, lo ha fatto, lo ha fatto anche su livelli importanti, perché avevo l'area 13.000, ha fatto poco sotto, 12.940, quindi se è riuscito ad entrare nella situazione del 15, ha fatto un buon acquisto e penso che siano prezzi, quelli del 15, 15 marzo, non quelli di adesso, quelli del 15 marzo, siano prezzi che potrebbero resistere inviolati per almeno un paio di mesi, poi a maggio vedremo un'altra storia, quindi dipende dall'orizzonte dell'investimento, se mi chiede se questi siano i minimi dell'anno per il Nasdaq, io non escluderei la possibilità che nel corso dell'anno vedremo i minimi più passi. Quindi giusto per capirci, come impatta a tuo avviso la decisione della Fed, anche perché rivede poi altri sei rialzi nel corso del 2022, il TEC in particolar modo? Allora, nel breve, nel brevissimo il TEC è avvantaggiato, però nel lungo periodo è penalizzato, secondo me saranno più dei sette rialzi che ha annunciato il Presidente Paolo. Ok, questo è anche molto interessante che ci stai ovviamente comunicando, intanto vado a leggerti la prossima domanda, buongiorno sono Lorenzo, un parere su Saras, se potrà beneficiare della situazione del petrolio, immagino si riferisce ovviamente al rialzo del petrolio e quindi torno a Piazza Affari e vi mostro Saras graficamente, ed eccolo qua, guadagna 3,69%, oggi è una corsa direi non da poco. Sì, Saras oggi è avvantaggiato dal rialzo del petrolio che in questo momento è più 7,50% il future sul petrolio, è avvantaggiato nella seduta odierna, ha avuto un fortissimo movimento dal 7 marzo, il titolo Saras, è uno dei titoli che in una situazione di mantenimento dei prezzi alti sopra dei 100 dollari del petrolio sarà avvantaggiato, quindi sì, la risposta alla domanda del telespettatore è uno dei titoli che sarà avvantaggiato nel caso il petrolio continua a restare su questi livelli, diciamo al di sopra dei 100 dollari, io per il petrolio non escludo, adesso sembra remota come ipotesi, però non escludo un superamento del massimo che ha già fatto nel mese di marzo, potrebbe farlo nel mese di aprile e addirittura potrebbe rinnovare il massimo storico se dovessero proseguire le tensioni a livello gioccolino. Allora, ti leggo la prossima domanda, ci scrive Mario, buonasera e ovviamente complimenti per la trasmissione, grazie Mario, conviene entrare su Enel o meno? Enel ha avuto una fase molto negativa fino alla seduta del 7 marzo, poi ha iniziato una fase di rimbalzo, per adesso il trend resta negativo, però quel minimo fatto a 5,2 potrebbe rappresentare un punto di riferimento, da qui si potrebbe iniziare ad accumulare, però ripeto, siamo in una fase in cui il mercato ci sta dando dei prezzi che molto probabilmente saranno anche rivisti nel corso dell'anno e anche rivisti pezzi inferiori, quindi dipende dall'orizzonte di investimento. Enel storicamente intorno ai 5 Euro è sempre stato un investimento che poi negli anni ha pagato, anche perché è uno dei titoli che comunque stacca il dividendo e ci avviciniamo adesso alla stagione dei dividendi, potrebbe essere un'occasione, però la prudenza va comunque consigliata in questo periodo. Vado con la prossima domanda perché purtroppo non abbiamo tanto tempo ancora a disposizione, ci scrive un altro amico, mi sono appena collegata, Daniele Rizzo, buon pomeriggio a Daniele, si può avere un'analisi per ingresso Ferrari? Rizzo. Esatto, Rizzo, lo sto facendo vedere, cede lo 0,72% a 185 Euro per azione. Allora, Rizzo è uno dei titoli migliori del nostro indice, ha fatto come tutti gli altri titoli del Paniere un minimo profondo a marzo, il 7 marzo, l'8 marzo ha fatto Rizzo, il minimo, mantenere quello come riferimento. Da qui un punto di acquisto si può provare, si può fare un trade di acquisto con lo stop sotto il minimo di marzo e un primo target lo posizionerei in area 200, è possibile il raggiungimento del target in area 200. Ferrari è uno dei titoli in assoluto più interessanti del nostro Paniere principale. Ottimo, ti leggo un'altra domanda. Ciao Alexandra, ti chiedo per favore Palantir Stock quotata sul Naisi, il ticker PLTR. Paolo, anche se può soffrire per caso sul lungo e come la vede Paolo? Allora, Palantir ha già sofferto, è uno dei titoli che, diciamo, una delle grandi delusioni del mercato americano, Palantir, però in questa fase sta accumulando intorno ai 10 dollari, poco sopra, poco sotto i 10 dollari e sta mostrando anche una forza relativa. Tra l'altro oggi è positivo il titolo, in un contesto generale non totalmente positivo e diciamo in questa fase intorno ai 10 dollari è un titolo che è interessante come livello di prezzo, da inserire in un portafoglio con un'ottica di medio periodo, medio lungo periodo. Ottimo, ultimissima domanda che ti leggo, sono entrato su Tesla, sulla debolezza degli ultimi giorni, ho sbagliato o meno? No, se è entrato il 15 non ha sbagliato, perché Tesla ha ritracciato molto dai massimi che ha fatto il mercato a novembre, l'area dei 700, il minimo lo ha fatto il 24 febbraio a 700, ha rinnovato il 15 di marzo un minimo 756, ora il segnale di rialzo effettivo lo darà al superamento degli 890, se supera gli 890 abbiamo una figura importante anche dal punto di vista tecnico, però in quest'area di prezzo per un'ottica di breve medio periodo potrebbe essere un prezzo, prezzi interessanti questi, ma anche altri titoli del settore dell'auto elettrica sono interessanti ai prezzi che hanno raggiunto a marzo. Grazie mille, come sembra Paolo Nardovino, Main Trade Analysis, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, alla prossima Paolo. Grazie a voi, un caro saluto agli spettatori. Noi ci lasciamo per una brevissima pausa obbligità.